Salone EICMA, stand Honda, siamo con Paolo Ceci, pilota ufficiale HRC, già in previsione Dakar. Eh sì, è stata una bella sorpresa, sono entrato a far parte del team HRC a fine settembre e subito siamo partiti per il Marocco, dove ho corso la prima gara in sella alla CRF 450 Rally, è una moto veramente strepitosa e questa è veramente una bellissima opportunità che ho e correrò questa Dakar 2016 come pilota ufficiale con il team HRC. Le aspettative dentro di te sono quelle di? Le aspettative sono quelle di fare come sempre una bella Dakar, di arrivare alla fine, cercare di migliorare il risultato dell'anno scorso non sarà facile sicuramente perché oggi i piloti veramente forti alla Dakar sono sempre di più, sempre tanti, il livello è altissimo, però sempre cercando di fare una gara con testa ma senza risparmiarsi. Ecco, mi sto allenando tanto in questo ultimo periodo e quindi diciamo che cercheremo di arrivare nelle condizioni migliori, sempre fermo restando che comunque io sono stato ingaggiato da HRC per un ruolo particolare che sarà quello di portatore, quindi di Gregario per i nostri due piloti di punta, Paolo Concalves e John Barreda e l'obiettivo è un obiettivo di squadra, sarà quello di portare uno dei due alla vittoria finale.